La droga, cocaina, hashish ed estasi veniva ordinata via sms per poi essere consegnata direttamente a domicilio. Adesso per un pusher 44enne, biturgenze insospettabile, sono scattate le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ad incastrare l'uomo sono stati gli agenti del commissariato di Sansepolcro. I poliziotti infatti al termine di un'accurata attività investigativa sono riusciti a risalire alle modalità di spaccio adottate dal 44enne. Bastava un messaggio whatsapp per ordinare in codice il quantitativo che si voleva acquistare e la tipologia di droga. Successivamente gli acquirenti, tutti residenti nel comune di Sansepolcro e con una stabile occupazione, si recavano all'abitazione dell'arrestato o in altri casi le dosi venivano consegnate a domicilio o in altri luoghi prestabiliti come nei pressi dei locali della Movida cittadina. Nel fine settimana infatti l'attività del pusher si intensificava significativamente. Così lo scorso sabato sono scattate le manette, l'uomo è stato fermato dopo una perquisizione domiciliare. Gli agenti hanno trovato 150 grammi di cocaina, in parte già suddivisa in dosi, 30 grammi di hashish, alcune pillole di exasi, materiale occorrente per il confezionamento dello superfacente, bilancini di precisione e circa 4 mila euro in contanti, il tutto ben occultato nelle stanze della sua abitazione. L'uomo è stato arrestato e trasferito in carcere a Sollicciano. Nel corso dell'attività investigativa i poliziotti hanno inoltre sanzionato e segnalato come assuntori altre persone che avevano acquistato la sostanza stupefacente.